io lo farei secondo ti do quello stile secondo io lo farei sempre è una di essere troppo veloce ma guarda che è una salita qua dopo scendi giù chiappalo qua Vito una salita poi scende giù mettiti qua Vito vedi dove ero ero di qua apposta andiamo Claudio ma ce la mette su con me è in una brutta posizione ce la mette su con me su e Ciri ce la mette su con me dai Claudio dai 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 forza se sapevo che lì c'era il buco stavo di qua passavo bene però dobbiamo spostarci passavo no se vai su di traverso ti invito a venire addosso io l'ho investendo se non sapevo del buco passavo di qua lo facevo andiamo andiamo dai Claudio che ce la fai Claudio andiamo ti portiamo a letto adesso muoviti ti frusto faccio che lì sei in mezzo no no lì no perché c'ero io ma ho stirato dai 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 di là porta su la ruota davanti bravo mettila là ok pizza poggi lì e vai tranquillo vai oh porta la lina dai giù vai gas bella po' di gas bravo sì e allora vai gas po' di gas ecco il gas tiene bene stranamente ehi oh se non togli la marcia morire ma dici che andiamo stiamo qua ci hanno visto pompieri quando suonano così quando suonano così si andranno in prima le hai fatte in terza come minimo suonano così e